Saranno tre giorni in cui la luce rossa, dominante in queste zone, servirà a sensibilizzare l'animo dei pesaresi nella donazione. La donazione, che è molto importante che sia a conoscenza di tutti i cittadini, non viene più fatta tramite moduli dalla nostra associazione oppure in minima parte, ma soprattutto viene fatta al momento in cui uno va a fare la nuova carta di identità elettronica. A questo punto il cittadino è chiesto di esprimere il consenso o la negazione alla donazione oppure il riservarsi di fare la donazione. È molto importante quest'opera di sensibilizzazione anche in questo periodo di pandemia, anche se i dati sono diminuiti rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda le donazioni e i trapianti fatti, però ci sono sempre dei buoni risultati. La situazione in Italia vede circa 9.000 persone in attesa di trapianto ogni anno. Per queste persone soltanto la metà riusciamo a ottenere una operazione salva vita. Quindi è molto importante che si aumenti, che ci sia una consistente disponibilità di persone pronte a donare al momento della cessazione della vita, pronte a donare i propri organi, anche perché ogni persona disponibile può aiutare altre sette persone, grazie a sette organi diversi che possono essere espiantati e trapiantati. Purtroppo in questo sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo dovuto, non abbiamo potuto fare l'opera di sensibilizzazione nelle scuole con i ragazzi che per noi sono il volano della nostra associazione, perché poi sono loro che parlano con gli amici, parlano in famiglia, parlano in genere e sono il nostro futuro. Però insieme con un progetto Donation, con la collaborazione della Regione Marche, stiamo facendo un'opera di sensibilizzazione da remoto, sia con le scuole, quindi con le classi e con i ragazzi. Speriamo di avere dei buoni risultati anche in questo senso e naturalmente è quello che dico, dite sì, dite sì, dite sì. Anche al momento in cui andate a fare o rinnovare la carta di identità, dove potete esprimere al Comune se siete favorevoli o no, o naturalmente se volete ripensarci. Però dite sì, 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 perché ce n'è tanto bisogno.